Questo, come vedete, è il fienile, era il fienile, perché non c'è più niente, solo i ferri di sostegno, basta. Luca Valente vive in questa casa di via San Bernardo a Laghi di Cittadella con il fratello. Quanto accaduto il 19 luglio gli ha lasciati senza parole, dieci minuti di paura e poi danni dappertutto. Praticamente io ho la macchina dentro qua, è venuto giù, sarà stato a dieci centimetri, dal tetto, sono andato tetto, vetro, vetro qua nel garage e ha battuto sul cofano così. Danni al garage, al fienile, danni a tutte le coperture, danni al tetto della casa. Nella camera di Luca ha un secchio a raccogliere l'acqua piovana, così come nel garage, dove la bacinella serve a evitare che le infiltrazioni facciano saltare la corrente elettrica, immattinate al sopralluogo dell'assicurazione. Ha fatto una stima di quanti potranno essere i danni da lei? No, non ce l'ha ancora detto. Adesso il perito deve mandare all'assicuratore, poi ci saprà dire. Comunque, occhio e croce, qua i 100.000 euro si superano tranquillamente. In via San Bernardo non si è salvato nessuno, molte case hanno i tetti coperti di nylon, molte le auto semidistrutte. Malissimo è andata Giulio Loro. La sua famiglia da oltre mezzo secolo gestisce questo allevamento di 500 vitelli. Mi sembra che sia passata una metallatrice che si è fatta un disastro, non mi rendo neanche più conto, cosa che può essere successa. È tutto coperto da assicurazione? Sì, sono coperto l'assicurazione io, ma il danno non so che era se danno che mi passava l'assicurazione. Ecco, non so, non ho più parole da che mattina che sono visto su guardare. Da rifare 4.000 metri di tetto della stalla, i primi preventivi si aggirano sui 100.000 euro, ma anche il tetto della casa di famiglia. La furia della grandina è risparmiato solo i pannelli solari, ma la preoccupazione adesso è per gli animali, con l'autunno che si avvicina. Piove dentro, ora il veterinario che mi segue ha detto che più presto ti acquerdi, meglio perché non andando avanti questa stagione, piove dentro, i vitelli si bagnano, caldo e freddo, se farsi che i cape bronchite, poi non mi dite che tratta di curarli, che esistono problemi.